Uè, non fare il pollo! Da oggi puoi supportarmi nello shop con il mio nuovo codice CREATOR! Clicca in basso a destra sul tasto supporta un creatore ed inserisci XIUDERONE! DAIE! Uè, bella a tutti ragazzi e benvenuti ad un mio nuovo video! Io sono XIUDER e ragazzi, porcaccia porcaccia, oggi abbiamo davvero un sacco di cose super incredibili di cui parlare per questa stagione finale e per questo inizio della season numero 8. Siamo ragazzi con gli amici del gruppo Telegram Fortnite Italy, andate a darci un'occhiata, il link è in descrizione. Nel video di oggi ragazzi, mamma mia, parleremo davvero della season 8. È stato scoperto, diciamo che un po' è mia la teoria e un po' l'ho trovata in giro, ma ragazzi, sembra finalmente esserci un elemento ufficiale incredibile. Parleremo ovviamente della patch che tra pochissime ore sarà disponibile per tutti la 7.4 con un bel po' di news rilasciate di già ufficialmente da Epic Games e ovviamente dei leaks che non mancheranno per tenervi, sempre aggiornati sul dietro le quinte di Fortnite. Vi ringrazio intanto a tutti, davvero, con il cuore per utilizzare il mio codice creator xyuderone, grazie per il grande supporto che state dando al canale. Mi raccomando, iscrivetevi in tantissimi e soprattutto se la trovo... Eh, si è nascosta. Attivate la campanella per non perdere nessuna news. Ma prima ragazzi, la domanda raga, la domanda, ve la devo fare, ve la devo fare, ci tengo tantissimo alle vostre risposte qui sotto nei commenti. Ed è una domanda che avrà a che vedere con il video. Quale sceglieresti tra i due? RPG o lanciagranate? Voi qual è? Quale scegliete tra le due ragazzi? Io il lanciagranate lo uso in squad, ma vado di RPG, proprio easy, easy. Fatemi sapere ragazzi invece la vostra scelta proprio qua sotto nei commenti. Ma quindi, bando alle ciance le bande e bando alle ciance, andiamo subito subito a parlare del primo argomento che non può che essere il nuovo fucile che arriverà appunto oggi con la nuova patch 7.4. Purtroppo non sono state scoperte le statistiche del fucile. Davvero incredibile e vi dico anche il perché. Perché con l'update di oggi potrebbe esserci un downtime dei server e quando c'è un downtime dei server preparatevi perché ci sono sempre enormi novità liccate in una maniera assurda. Quindi l'arma ragazzi non è ancora presente in game. Ce l'hanno semplicemente spoilerata dandoci la data di uscita ufficiale. Non sappiamo i suoni, l'utilità, la rarità, i danni. Non sappiamo nulla. Le uniche ipotesi che facciamo è che potrebbe essere tranquillamente un'arma che andrà a sostituire il fucile da caccia. Quindi preparatevi a dire addio ad una delle armi storiche di Fortnite anche se è entrata nella season 3. Se non ricordo male, staremo a vedere questo nuovo fucile com'è. Invece ragazzi, grande, enorme, incredibile ritorno per tutti gli OG player, per tutti quelli che c'erano già dalla prima season. Ho avuto la fortuna di giocarla io nella prima season. Ragazzi, domani sarà disponibile, probabilmente per un tempo limitato, indicativamente, secondo me, fino al termine dell'evento Share the Love, quello che c'è di San Valentino, la balestra originale. Quindi la prima che fu inserita in Fortnite. I dardi dovrebbero essere illimitati. Il danno dovrebbe essere 60 per i giocatori e 10 sulle strutture. Comunque poca roba sulle strutture. Staremo a vedere, ragazzi, ovviamente con il reinserimento di questa balestra se la utilizzeremo oppure no. Ma di quello che vi volevo parlare, ragazzi, era di questo. Praticamente su Reddit da qualche ora è stata spoilerata una parte dell'update 7.4. direttamente, ragazzi, da Eric Williamson, mi sembra che si chiami lui comunque, uno dei capoccia di Epic Games, che su Reddit si chiama EpicEricSW. E dice Vogliamo darvi uno sneak peek, appunto, sui cambiamenti che ci saranno. Allora, cambiamento numero uno, ragazzi. Gli aeroplani non distruggeranno più le strutture. Quindi non si potranno più abbattere le strutture con gli aeroplani. E qua sta a capire, nel senso, cioè, diventano invincibili, nel senso. Gli vai addosso con l'aeroplano, rimbalzi. È un po' strana questa cosa da capire, ma è ufficiale. Quindi, staremo a vedere che cosa succederà. Finalmente, inseriranno il comando di interazione con la zipline. Se ne è già parlato, già da un paio di update non è mai stato fatto. Probabilmente dovevano perfezionarlo. Quindi, zipline interact, prompt added. Quindi, dobbiamo avvicinarci e premere un tasto per utilizzarla. Non sarà più automatico. E, usando una zipline, cioè, cadendo da una zipline, non ci sarà più il danno. Quindi, saremo immuni. Will grant fall damage immunity. Quindi, il danno da caduta non ci sarà cadendo da una zipline. Tanta, tanta roba. Addirittura, direi, incredibile. Perché stravolgerà, anche se non ce ne rendiamo conto, parti del gameplay. Modifiche alla Deagle. C'è stata una grande sommossa, chiamiamola così, su Reddit, sui post, su YouTube, anche da parte degli utenti americani e giocatori di Fortnite. Quindi, che si lamentavano appunto di quanto fosse OP la Deagle. Hanno ridotto il danno alle strutture da 150 a 100. Quindi, due colpi di Deagle per buttare giù una parete, un pavimento o quello che vi pare. Hanno modificato il Turbo Build Delay. Quindi, il ritardo per il Turbo Build lo hanno abbassato da 0.15 a 0.05. Quindi, ancora più veloce il modo di costruire perché utilizza il Turbo Build. E, ai, 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 nerf sull'RPG, ragazzi. Hanno modificato, aumentato il tempo di ricarica dell'RPG da 2,52 secondi a 3,24. Quasi un secondo in più, ragazzi. Assurdo. E hanno messo anche l'abilità di chinarsi quando siamo nella modalità costruzione. Quindi, se stiamo costruendo, mentre abbiamo in mano il foglio per costruire, possiamo anche abbassarci. Una cosa molto interessante. Sono solo alcune delle modifiche che verranno apportate. Ma, ragazzi, porco Giuda. Guardate questo. Questa, ragazzi, è assurda. È un'immagine scoperta, sembrerebbe, in una pagina nascosta del sito di Epic Games che, spoilerà pesantemente, la Season 8. Dice, la Season 8 è iniziata. Il terremoto, aspettate che ce l'ho in piccolino, non riesco a leggerlo neanche io. Il terremoto ha separato la mappa in due parti, creando due nuove location, due nuove countries, due nuovi stati, dovrebbe dire, divisi dall'abisso. Quindi si parla dell'acqua. Vai da una parte all'altra con il sottomarino. Ragazzi, è incredibile questa immagine. Io spero che sia vera, ma è assurda. Scopri le nuove ricompense del Battle Pass e per le nuove Battle Pass sia gratuito che a pagamento. Le skin personalizzabili, scusate, leggo proprio piccolino, e utilizzate i nuovi veicoli acquatici. Ragazzi, sarà veramente una cosa assurda. Vi dico però una cosa. Quando ho letto questo articolo, mi è venuto in mente questo, ragazzi. Me lo ricordo bene. Il 19 dicembre 2018, Donald Mustard, il capoccia, quello più grosso, di Epic Games, pubblicò sulla sua pagina Twitter questa immagine dove diceva, vorremmo... Questo proposto vuol dire, stiamo pensando in poche parole di fare questo. E adesso ho capito di che cosa si trattava. Quella, quell'immagine, ragazzi, le due rocce separate, rappresentano le due parti di mappa che si separeranno con i grandi terremoti che arriveranno e stravolgeranno la mappa nella season 8. Ragazzi, le cose sono davvero assurde. Io vi ringrazio tantissimo per aver guardato questo video. Voglio che commentate. Ditemi cosa ne pensate di quest'ultimo argomento perché a me mi fa venire la pelle di gatto. Non so bene che cosa voglia dire. Io vi ringrazio tantissimo per averlo guardato. Mi raccomando, iscrivetevi al canale. Noi ci vediamo presto. Ciao!